Solida, pratica e con tanto spazio interno, questa è la carta d'identità di Subaru Outback. 4,87 m di lunghezza, 1,87 m di larghezza e 1,67 m di altezza ed un'altezza da terra di 21,3 cm che gli permette di andare comodamente in off-road. Ma ora vi farò vedere la vera particolarità dell'esterno di quest'auto. Le barre al tetto che ruotando sono già pronte per qualsiasi tipo di carico. Specchietti in color argento a contrasto, vetro oscurati, griglia cromata, cerchi bicolor, bagagliaio elettrico e grande spazio interno, ma questo lo vedremo nella prossima puntata.